È una giornata importante la presenza del direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Stiamo facendo delle cose insieme importanti, soprattutto in quartieri difficili della città, per ragazzi con una vita difficile della nostra città. Ci è stato dato atto che in questa città si sta facendo tanto, anche con pochissime risorse, e che il riscatto di Napoli, soprattutto attraverso i giovani, adesso non è solo un dato che cogliamo noi in città, ma è un dato di rilevanza nazionale che le istituzioni del nostro Paese cominciano a cogliere sempre.